Io sono Katia Pecoraro e sono appunto di Taormina, però mi sono trasferita a Milano per completare i miei studi in graphic design. Ho frequentato il Master in Raffle, che è appunto un Master in Porta Venezia, molto vicino al MIT, quindi che mi ha dato appunto la formazione per poter arrivare a presentare questo progetto, perché appunto la mia idea, che è appunto Radici, nasce dalla necessità di esprimere, appunto di fare un progetto finale per il mio Master, che appunto è stato richiesto dalla scuola, che era un progetto che dovesse rappresentare al meglio il nostro credo appunto sul design, ma anche che potesse riflettere al meglio i tempi che viviamo e quindi potesse essere anche un contributo poi per l'altro. Infatti l'ho deciso di presentare innanzitutto perché, diciamo, ho trovato affinità già dal nome a quello che è la vostra iniziativa e seppur non è totalmente calato all'interno del, cioè come contenuto, in quelli che sono i contributi proprio fisici dell'evoluzione tecnologica, di per sé il mio progetto secondo me come forma può riflettere in questo senso invece la stessa idea, perché appunto si tratta di una piattaforma digitale che io ho sviluppato con Figma, che è un software di produttivazione, per permettere, diciamo, all'utente di ricostruire, quasi fosse, diciamo, una piattaforma come Instagram, l'evoluzione di progetti appunto che nella storia della grafica hanno inciso talmente tanto da diventare radici. Di conseguenza, tramite questa piattaforma, l'utente può accedere a quelle che per categoria, come per esempio il libro, il magazine, il logo, il manifesto, ovviamente vi portavo degli esempi, perché sarebbe un archivio infinito, e può accedere sia alle radici e quindi capire chi sono stati tra i primi a fare quella stessa, quello stesso progetto, di avere quella radice, che sia appunto l'uso di una diagonale, di un particolare oggetto grafico, e quali sono i progetti collegati, ovvero quei progetti che poi nel corso della storia, fino ai giorni nostri, hanno ripreso la stessa idea. E quindi io ho creato una sorta di continuità, facendo questa piattaforma in maniera duplice, nel senso che si scorre in maniera parallela, sia in desktop che mobile, in cui appunto l'utente può navigare all'interno di questi progetti, per capire che in realtà ciò che noi oggi vediamo ha una radice precisa, ma essere consapevoli delle radici non significa necessariamente abbandonare o dire che il nuovo non va bene, significa continuità, e quindi per questo la piattaforma si sviluppa in parallelo, e significa anche che non dobbiamo dimenticare da dove veniamo, e al contempo dobbiamo fare dei progetti che rispecchino al meglio quello appunto da cui siano partiti. Infatti viceversa, l'utente può anche partire in un approccio random, quasi fosse un Instagram, e l'unica differenza è che appena clicca su un progetto casuale, rimanda automaticamente alla radice, quindi c'è questa ambivalenza fra il rapporto. Si chiama radice proprio per questo, però io anche per esprimere al meglio la mia visione, ho anche elaborato una tesi, una ricerca, che è nella parte editoriale, che ho elaborato nello stesso momento della piattaforma, in cui spiego anche che oggi invece la metafora perfetta per rappresentare lo stesso meccanismo, quindi di continuità, non è più una radice ma è un rizoma, che è sempre una radice però ha più punti, e di conseguenza seppure è collegata, cioè seppure è un modo per rappresentare la contemporaneità, è pur sempre una radice. Quindi seppure oggi abbiamo diversi punti e non siamo spesso capaci di capire da dove proveniamo, siamo pur sempre collegati, questo è il messaggio che volevo lanciare. E per ultimo il progetto riflette al meglio, il progetto editoriale riflette al meglio la stessa idea di continuità, perché il formato libro è formato appunto da due parti, che sono connesse, e l'utente può sia leggere la ricerca che al contempo vedere alcuni esempi che sono poi anche riportati in piattaforma. Di conseguenza ho trovato affinità nella vostra iniziativa proprio per questo motivo, perché appunto credo che oggi sia importante sottolineare la globalità nel dubbio ci aspetto, di muoversi in maniera consapevole, perché seppur non possiamo fare niente per ripristinare una visione moderna, una visione continua, radicale, possiamo comunque mantenere una forma rizomatica, in questo caso, quindi contemporanea, per rappresentare comunque connessione, che è quello appunto che siamo, siamo sempre connessi, però dobbiamo farlo con criterio.